Tanto spreco ci sta adesso, anche alla casa, no? Scartano i mobili, scartano questo, scartano e che si indebitano magari. Pure se non possono fanno, però poi si trovano male, no? Uno guarda l'altro, capito? Vanno a rubare, magari per farsi la macchina. O no? Penso che è così. Io se ritornassi a vent'anni, fare una bella ponta di pecca, per me non darvi da quella montagna là. L'ho fatta una vita.